Gravi incidenti stamattina... Avervi detto dieci minuti? Non riuscivo a scegliere il formaggio. Ma perché non ti prendi un appartamento? O almeno un magazzino? Lo farò. Mi piace stare qui. Hanno i video on demand. Ho i test di pratica. Non sai quanto li odio. Non ho mai visto i soliti sospetti. Lo guardiamo prima di iniziare? Ma che dici? Hai tre giorni. Perché siete tutti convinti che non supererò questo stupido test? Forse perché è già successo. Mi stavo riprendendo dell'influenza. Potevi anche avere l'ebola. Non dovevi prendere meno di 70. Non fai che cercare scuse e distrazioni. Beh, è una bella lotta con la tua condiscendenza e la tua superiorità. Godeti il film. Kevin Spacey e Kaiser Soos. Grazie. 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 Grazie.